Alla vigilia dell'insidiosa trasferta di Nardò, mister Valeriano Loseto aveva chiesto la partita perfetta ai suoi, ma la perfezione, si sa, non è di questa terra e tante sono le componenti, spesso arcane e inconoscibili, che determinano il destino di una gara, come possono essere i fischi amletici di un arbitro o le solite inspiegabili amnesie collettive del reparto arretrato. Così le oncelli si giocheranno tutto negli ultimi 90 minuti di domenica prossima col Fasano. Dunque, il tecnico baresi va sul classico e sceglie il luminare dell'arte difensiva Petta accanto all'assistente Colella Danilo, dietro. Il sudamericano Turbiasonna signoreggiarne al mezzo da par suo, col fosforo ritrovato di Montinaro. Davanti, il solito tridente, gli esterni Triarico e Taurino, al servizio di Capitano Lattanzio. Il collega Danucci si rassicura le spalle con straniere Romeo, consegna la bacchetta di direttore d'orchestra all'Indo Scialpi, la fantasia ronzante sarà dell'ex potenza e lo svedese Tonros a torreggiare davanti. Neppure il tempo di schierarsi sul prato terroso del Giovanni Paolo II è ospiti in vantaggio. Minuto 4, più scaltro di Ulisse, Lattanzio fuffa il cuoio a mengoli e solo Fredda Mill in uscita. Dopo il quarto d'ora, finisce largo il destro di Romeo, che aveva ripreso una ribattuta della barriera, suppiazzato di Scialpi. Al ventunesimo, ampia triangolazione fra Montinaro e l'esterno Triarico, che crossa e trova l'inzuccata fuori misura. Due minuti e contropiede cestinato maldestramente da Taurino, con i neroverdi addirittura in superiorità numerica. Doppia occasione al ventiseiesimo, prodigio di Millis in cornata di Petta, che ci riprova subito dopo, scheggiando la traversa. S'accenda, qualche primo dopo, il genio del fantasista attascabile Taurino, che inventa per Triarico, che chiude con un tiraccio inguardabile. Al ritorno dagli spogliatoi, i granata sembrano più aggressivi, ma sarà solo un'impressione. All'ottavo, palla scodellata da Nicolao in area, solo brividi per gli ospiti. Giallo dall'altra parte, nei sedici metri nei retini, al dodicesimo. Trebbiato Montinaro in rapido controgioco, da Millis un difensore. Arcidiacono resta afono. Minuto diciotto, mancino satanico di Taurino, dopo trama dedalica dei bitontini, alto di nulla. Alla mezza, destro teso di Loris Palazzo e guantoni di Millis in corner. Subito dopo, inzuccata di Colella e deviazione salvifica del muro granata. Al trentaseiesimo, traversone di potenza, uscita e intitubante bager di De Lucia. Il sinistro di tedesco, al quarantaduesimo, stavolta non è mirabolante, come altre. Poi, ad un respiro dalla fine, il punto della beffa. Fallo su Biasson non visto, anticipo di petta sanzionato. Piazzato dalla tre quarti di Caputo, inzuccata vincente di Nicolao, ed è uno a uno.